Viaggiare ancora Candreva, è partito il traversone Lobons e poi mette dentro Lulic per il vantaggio della Lazio. Sbloccato il derby, la Lazio in vantaggio. Viaggiare ancora Candreva, è partito il traversone Lobons e poi mette dentro Lulic per il vantaggio della Lazio. Viaggiare ancora Candreva, è partito il traversone Lobons e poi mette dentro Lulic per il vantaggio della Lazio. Mauri fa viaggiare ancora Candreva, è partito il traversone Lobons e poi mette dentro Lulic per il vantaggio della Lazio. Grazie a tutti.